E' ben trovata l'informazione di TRMH24, in apertura Matera si prepara per l'ultimo saluto i vigili del fuoco definiti eroi, si svolgeranno infatti lunedì 22 luglio alle ore 18 nella chiesa di San Pio X i funerali solenni di Nicolà, la salata e Giuseppe Martino entrambi di 45 anni, due vigili del fuoco morti il 17 luglio scorso mentre erano impegnati nello spegnimento di un incendio divampato nelle campagne di Novasiri in provincia di Matera il rito funebre sarà ufficiato da sua eccellenza l'arcivescovo di Matera Ersina Antonio Giuseppe Cagliazzo e intanto domenica mattina dalle ore 10 sarà aperta la camera ardente nella caserma dei vigili del fuoco resterà aperta fino alle ore 21 e riaprirà lunedì mattina dalle ore 9 alle ore 13 secondo quanto si è preso a Bari si è svolta l'autopsia, l'esame approfondito dell'anatomo patologo fornirà elementi all'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti che hanno portato la Salata e Martino ad essere uccisi dall'incendio è ancora la cronaca e in questo caso ci spostiamo nel territorio di Bari perché un uomo di 62 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada stradale 16 all'altezza di Bari Palese in direzione nord secondo quanto si apprende la vittima avrebbe perso il controllo dell'auto che stava guidando finendo contro il guardrail l'impatto è stato fortissimo il 62enne è morto sul colpo sul posto sono intervenuti il personale del 118 la polizia stradale che dovranno dunque accertare l'esatta dinamica dell'incidente e ancora adesso ci occupiamo di giudiziare a bancarotta fraudolenta e per questo un imprenditore varesino è stato arrestato il GIP di Taranto in particolare ha sequestrato beni per 400 mila euro 6 gli indagati ma ascoltiamo i dettagli sarebbe accusato di bancarotta fraudolenta aggravata occultamento della documentazione contabile e autoriciclaggio un imprenditore della provincia di Varese è stato posto agli arresti domiciliari la misura prevede anche che non possa esercitare per 12 mesi l'attività di impresa l'arresto è stato eseguito dalla guardia di finanza di Taranto su disposizione della magistratura ionica le indagini riguardano il fallimento nel 2022 di una società amministrata dall'imprenditore varesino ed operante nel settore della fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere la cui sede legale nella fase prefalimentare era stata trasferita da tradate nel capologo ionico secondo l'accusa l'imprenditore e altri 5 indagati hanno distratto l'intero patrimonio aziendale dell'impresa sottoposta alla procedura consorsuale del valore complessivo di circa un milione di euro a favore di due società con sede in provincia di Varese riconducibili allo stesso imprenditore queste ultime società in particolare avrebbero illegittimamente beneficiato delle disponibilità finanziarie del patrimonio aziendale, dell'avviamento e delle maestranze dell'azienda fallita ormai gravata dai debiti e non più in grado di operare in quanto svuotata delle proprie risorse per questo la magistratura ha disposto il sequestro dell'intero compendio aziendale e delle quote sociali di una delle imprese beneficiari del patrimonio della SRL fallita nonché di un immobile per un valore complessivo stimato di circa 400 mila euro la società sequestrata è stata affidata ad un amministratore giudiziario nominato dal tribunale di Taranto e intanto in Puglia prende il via la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata oggi parte la campagna referendaria per la raccolta firme e l'abolizione della legge sull'autonomia differenziata oggi e domani è vero è l'inizio ma fino a fine settembre saremo impegnati in tutte le piazze italiane in tutti i paesi della Puglia e dell'Italia intera appunto per la raccolta di queste firme sappiamo bene che per un referendum abrogativo la necessità è quella di raccogliere 500 mila firme ma già da stamattina devo dire che l'affluenza ai nostri banchetti nonostante il caldo, nonostante il periodo già ci lascia ben sperare perché probabilmente da noi in Puglia è un tema che è realmente sentito perché non possiamo creare in questo paese due blocchi di paese che viaggiano a velocità diverse un nord che continua ad accelerare ed un sud che arranca e questa legge potrà soltanto acuire se non verrà appunto abrogata le diseguaglianze e le differenze di passo tra nord e sud e cambiamo argomento, torniamo a parlare del Consiglio Comunale di Matera che nel corso dell'ultima seduta ha osservato un minuto di silenzio per ricordare Nicola e Giuseppe due vigili del fuoco morti mercoledì pomeriggio durante le operazioni di spendimento di un incendio a Novasiri nella provincia materana nel corso della riunione in seconda convocazione della massima sise cittadina durata circa 4 ore è stato approvato in particolare con 16 voti favorevoli e 15 contrari l'aggiornamento del piano economico finanziario tariffe 2022-2025 relativo alla Tari per il bienio 2024-2025 a seguire con 16 voti favorevoli e 13 contrari la determinazione delle tariffe Tari il numero di rate e scadenze di versamento per l'anno di imposta in particolare 2024 modifica di quelle già approvate con la delibera del Consiglio Comunale dell'11 dicembre 2023 è stato approvato anche con 18 voti favorevoli e con 10 contrari il terzo punto all'ordine del giorno riguardante la quinta variazione al bilancio di previsione 2024-2026 per quanto riguarda l'elezione del Presidente del Consiglio e dei due Vicepresidenti il Consiglio sarà nuovamente convocato a data da destinarsi poiché tali argomenti richiedono un quorum speciale di voti non deliberabile in particolare in seconda convocazione e a proposito di Matera a partire dal 22 luglio 2024 entra in vigore la rimodulazione degli orari di attivazione dei varchi della ZTL Sassi in particolare i varchi di Via D'Addoggio e Via Bruno Buozzi con la seguente modalità da lunedì alla domenica dalle ore 10 alle 24 si allunga dunque di due ore la fascia serale nel periodo di zona e di traffico limitato si allunga di due ore pertanto nella fascia serale il periodo di zona traffico limitato nei rioni Sassi di Matera e adesso invece parliamo degli associati di Casa Artigiani Taranto che sono in fibrillazione dopo l'avvento di un'amministrazione straordinaria dell'Exilva il rischio è che non vengano pagati i crediti maturati in passato la crisi dell'Exilva con l'avvento di una nuova gestione da parte di un'amministrazione straordinaria ha messo in forte preoccupazione la Casa Artigiani di Taranto per questo gli autotrasportatori tarantini hanno convocato nella sede del sindacato dei datori di lavoro artigiani una conferenza stampa per denunciare gli affidamenti da Acciaieria d'Italia a un ristretto numero di aziende per quanto concerne i servizi di trasporto la situazione è molto pericolosa per quanto riguarda i nostri associati e le aziende di Taranto si parla di un ristoro del 70% dei vecchi crediti va bene diciamo che rispetto al fallimento del 2015 è un fatto positivo però noi siamo preoccupati dal fatto che i nostri vettori non sono contrattisti la maggioranza sono sub vettori di aziende che sono di Taranto ma la maggior parte non sono di Taranto per gli associati che chiedono un ristoro del 100% ci sono diversi dubbi anche riguardo il pagamento dei crediti maturati prima dell'avvento dell'amministrazione straordinaria quello che denunciamo stamattina è che abbiamo chiesto nei giorni scorsi sia ai commissari che al sottosegretario Mantovano è un incontro urgente del tavolo che a marzo ormai si è interrotto con le associazioni datoriali abbiamo bisogno di incontrare avere trasparenza e chiarezza a. su quello che è il futuro del pagamento dei crediti vecchi b. qual è il futuro dell'azienda ma qual è il futuro dell'organizzazione del lavoro a Matera innovare per educare 25 anni di esperienza della cooperativa Il Puzzle celebrati nel corso di un convegno innovare per educare 25 anni di esperienza con la cooperativa Il Puzzle a Matera nella sala convegni dell'hotel del campo un evento celebrativo per tracciare in sintesi un bilancio delle attività realizzate da quando la cooperativa è nata il 10 luglio del 1999 dare risposte rispetto ai bisogni della comunità la cooperativa Il Puzzle che nasce 25 anni fa e prende spunto tra i origini dall'associazione dell'albero azzurro all'epoca in un momento anche di grande collaborazione devo dire la verità con altre tante associazioni Becco Giallo, Girasole, Palloncino Blu, Scarabocchio è stato un gruppo coeso dove c'è stato un rapporto leale di collaborazione e che ha fatto germogliare nuovi frutti in questo caso la cooperativa ha raccolto questo germoglio è dato la possibilità di sviluppare i servizi e oggi questo festeggiamento ne è anche un po' la testimonianza Un momento molto partecipato alimentato dalle testimonianze dei soci organizzato per condividere altresì lo stato dei servizi 0-6 anni in Basilicata a partire dall'istituzione del tavolo paritetico regionale per arrivare poi alla richiesta di realizzare un apparato normativo unitario per i poli dell'infanzia a fornire una visione più chiara a livello nazionale sulle trasformazioni del welfare educativo con particolare riferimento all'impatto dei servizi educativi nelle comunità lo studio Kids for Impact del consorzio CGM e consorzio PAN che ha coinvolto da dicembre 2023 a giugno 2024 ben 40 servizi nazionali a novembre dopo una prima fase sperimentale in programma la presentazione dei risultati al termine dell'iniziativa è stato inaugurato in via Sallustio il primo polo infanzia 0-6 anni già operativo da lunedì 22 luglio Oggi noi abbiamo inaugurato il polo 0-6 anni in via Sallustio è un luogo concettualmente predisposto e pensato in questa modalità ma di fatto è il primo luogo anche strutturalmente definito che atto il decreto legislativo che il governo ha già messo in atto per cui è un punto non di arrivo è un punto di partenza perché lo spice che come noi altre strutture, altre cooperative altre associazioni possano germogliare noi non dobbiamo essere gelosi del nostro lavoro dobbiamo metterlo a disposizione perché poi alla fine chi ne devono godere sono i bambini innanzitutto Adesso ci spostiamo a Lecce per seguire nel nostro servizio l'apertura delle porte di Palazzo Carafa Cosa ci fa un pianoforte a Palazzo Carafa a sede del Comune di Lecce? Lo strumento musicale è stato uno dei protagonisti della serata di ieri durante la quale i cittadini sono stati accolti nel municipio la Casa dei Leccesi così la vuole il sindaco del capoluogo salentino Adriana Poli Bortone che dunque ha regalato ai suoi concittadini una festa d'arte, di musica e di poesia animata da artisti di strada letture ad alta voce dagli studenti del Conservatorio Musicale e da quelli dell'Accademia di Belle Arti Aperti alle emozioni è stato il titolo dell'iniziativa incentrata anche sulla visita guidata del palazzo compresa la stanza del primo cittadino in bella mostra la statua originale di Santo Ronzo patrono di Lecce visita conclusa nella sala della giunta un atto simbolico aveva annunciato il sindaco per dialogare con la cittadinanza Bene, ci fermiamo qui grazie per l'attenzione arrivederci grazie per l'attenzione